ciao dai un semplice ciao, un ciao a tutti dai un piede su instagram vabbè non è meno un ragazzo, c'è uno che frequento vabbè eh sì ma ormai ci hai fatto incuriosire però eh no cioè si sono incuriositi tutti lo fa vedere un piede? no italiano e tedesco è italiano mamma che si è anche i biondi no anche no anche no Grazie.